ha fatto una mutata contro di 50 metri devo forzare aspetta la frizione togli questa cosa a mezzo di piedi si era libera la frizione oh fortuna che non l'ho lasciata libera mi avevo dato attrazione posso bene a stirare questa canna vai sulla murata giù non me lo tenerai a mezzo sono la murata giù sta testatina guarda testate che da si vede? guarda il pesce no no il pesce no gira di più Giuseppe non mi faccio solo lo vedi il filo giù? si dovrebbe vedere vai sotto il motore Giuseppe devi andare di là adesso Giuseppe no così vai accelera accelera guarda il filo Giuseppe ecco è un tornetto prepara il raffio si si aspetta aspetta l'ha letterato occhio al motore non tu il raffo Giovanni prepara il raffio Giovanni lasciate le foto guardi là guardi 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 Its Innanzi ecco